Per l'aggressività del Teramo, poi siete rientrati in partita e nel secondo tempo sicuramente meglio. Sì, mi dispiace un po' l'atteggiamento un pochettino troppo remissivo, l'avevamo preparato in maniera un pochettino diversa. Il Teramo sicuramente, dato dalla sua forza, ci ha fatto indietreggiare, volevamo fare una partita un pochettino diversa, però avevamo di fronte la prima della classe e l'ha dimostrato. Siamo stati fortunati in alcuni episodi, il rammarico è che siamo andati sotto all'ultimo minuto del primo tempo e siamo rientrati al primo minuto del secondo tempo, c'è stato il 2-0 e lì potevamo essere tramortiti. Invece la squadra ha reagito, ha provato a fare la partita, a creare qualcosa. Purtroppo non solo oggi, ma nelle ultime tre partite non riusciamo a fare gol, non riusciamo a concretizzare, a creare. Questo è un dato un pochettino allarmante, per il resto la prestazione l'abbiamo fatta, grosso merito per il Teramo. Lo so che la domanda è pericolosa, però se tu in questo periodo dovessi scommettere su chi vincerà il campionato, chi lo vincerà, il Città di Teramo o il Giulianova? Una bella domanda, l'abbiamo affrontata entrambe, hanno una forza importante. Probabilmente ad oggi mi permetto di dire che forse il Giulianova ha qualche cambio in più, questo non per sminuire la rosa del Teramo, secondo me la vedo così, il Giulianova ha un pochettino più ampia, credo che il Teramo a dicembre farà qualcosa per ampliarla, però il valore è un valore di due squadre importanti, adesso ci sono questi quattro punti di distacco che potrebbero fare la differenza, quindi sarà sicuramente difficile e dura fino alla fine. La scommessa su chi lo fai? Adesso il Teramo è quattro punti avanti, mettiamo un euro sul Teramo. Venivate da tre giornate in cui non avevate subito gol e soprattutto da tre giornate in serie positiva. A Teramo la sconfitta, quindi quanti meriti? Sì, noi avevamo trovato una certa quadratura, non avevamo preso gol, avevamo fatto delle partite solide, avevamo creato anche tanto, non riuscendo a concretizzare, sapevamo che oggi per uscire con un risultato positivo c'era bisogno di una prestazione impeccabile, abbiamo lasciato qualcosina, il Teramo naturalmente ha una forza diversa dalla nostra e quindi grosso merito va loro, ma io sono comunque orgoglioso dei ragazzi perché nel secondo tempo anche con i cambi, sono entrati tanti ragazzi giovani, abbiamo provato a fare la partita cercando di accorciare le distanze, non ci siamo riusciti, ma non cambia il nostro percorso e io sono contento di questa rosa, sono contento di aver recuperato Romano Cemosca che sono due giocatori fondamentali per noi, quindi andiamo avanti con grande fiducia. Forse qualcosa lì davanti manca alla Torrese, visto soltanto otto reti fino a qui. Sì, purtroppo questo è un dato, come dicevo prima, un pochettino allarmante, abbiamo il nostro giocatore di punta dal Gason che purtroppo per tante vicissitudini fisiche non riesce a trovare continuità, però chi lo sta sostituendo sta facendo bene, a parte oggi dove abbiamo creato veramente poco al cospetto di una corazzata, però nelle altre prestazioni il gol non è arrivato, ma abbiamo fatto delle grosse prestazioni creando tanto. Purtroppo, ripeto, credo che in settimana riusciremo a recuperarlo, ma sicuramente la squadra saprà farne a meno.